Ciao a tutti Roblox giocatori, come state? Yaku-ta-yap-tipi-u Come state? Spero tutto bene, sono bella faccia E oggi sono un cavaliere E dovrò cercare tutti i tesori di Roblox Sono arrivato qui ragazzi In questo posto molto molto segreto e misterioso In questo dungeon pieno di mostri E mi raccomando se non l'avete fatto lasciate un mi piace Perché è super importante Sconfetti Oh che cavolo è sto coso Che cavolo è? Ah beccatevi questo Ok, dovrò andare avanti ragazzi E sconfiggere tutti i mostri E raccogliere tutti i tesori Sì Presi e vai Ci sono altri mostriciattoli lungo il mio cammino Oh, aiuto Mi hanno bloccato, beccatevi questo Sì, e vai, ho sconfitto i minotauri Ma che è? Le tigri Ci sono le tigri Distrutti Beccatevi questi, uomini scimmia Ci sono anche gli uomini scimmia Ok, distrutti, datemi altri tesori Sì, e vai Che bello, tesori, tesori, tesori Ancora, i gorilla Ma mangiatevi le banane Andate via, maledetti Ok, altri tesori, uomo gorilla Sta arrivando, attento, bella fazza dietro Ok, allora, questo da Questo dungeon è ultra pericoloso Ci sono gli ippopotami, che cavolo è questo? Oh, ma stai a cuzza Maledetto, con chi pensi di avere a che fare Ok, altri tesori Ci sono i minotauri, bella fazza, t'hanno visto? Ok, distrutti, distrutto anche questo Uomini scimmia, uomini scimmia Ok, tesori, ci sono altri tesori? Li ho presi tutti? Oh, altri maghi e uomini scimmia Ok, beccatevi questo La super bossa finale, sì Oh mio Dio L'uomo scimmia finale È proprio lui Io non ho preso un tesoro No, non ho preso il tesoro Ma dai L'uomo scimmia finale Contro bella fazza Manzo una banana, hai capito? Invece di sfidarmi Con chi pensi di avere a che fare E stai Attento Nuovo bottino Una banana Sì Dopo tutta questa fatica Una banana ci voleva proprio E vai ok andiamo avanti è infinito questo posto sono tipo in una grotta in un castello segreto sotterraneo devo liberare la principessa magari oh il tesoro finale e vai 15 monete 15 15 e qua 105 monete e vai tutto il tesoro dello scimmione mio andiamo avanti si la mia missione inizia qua ragazzi finalmente abbiamo liberato il primo sotterraneo ma ce ne saranno tanti altri allora vediamo potenzia ok possiamo potenziare le armi la banana no vabbè la banana quanto toglie toglie 3 ah è magica la banana è magica no io no devo proprio mettere la banana vediamo banana equipaggiamo equipaggia vai cambiamo con la spada eh dov'è la la banana non l'ho mica presa banana dai equipaggia la banana siiii super banana 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 a chi piacciono le verdure la frutta a chi piacciono la frutta allora vendi compra io vorrei comprare allora vediamo ricompensa giornaliera vai ce la pigliamo subito preso grazie mille qua cos'è c'è il mago e il magazzino tipo ok sotterraneo io vorrei comprare un'armatura non lo so qualcosa allora lavorazione ok non ho assolutamente niente perché sono povero come la fame calza verde nuovo bottino si cosa mi da ah questo questo è un attacco di forza ok quell'altro è magico un baule baule festivo apriamo ok va bene apri va bene mi serve la chiave ah questo oh un guanto di natale vai quanto cava ok magia 8 e ma la banana è più forte la banana è troppo forte ragazzi eh la banana è iper fortissima ok direi che è arrivato il momento di sconfiggere altri mostri il cavaliere bella faccia non ha paura di sconfiggere niente e nessuno perché ho una banana gigante e intendo usarla avete capito fatemi passare voglio entrare si eccoci qua mamma mia quanti nemici ci sono 42 nemici non ho paura di niente avete capito venite un po qua c'ho una banana gigante che cavolo sono quelle golem golem del mago che cavolo è venite qua golem del gelo mamma mia è troppo forte la mia banana ragazzi guardate che roba li distruggo in un secondo ho trovato l'arma più forte del mondo il mago mago del gelo questi sono tutti sono tutti infreddoliti perché qua fa freddo eh allora sono arrivato a scaldarvi vi scaldo le idee ve lo dico io ok un bel tesoro c'ho anche una magia qua vi distruggo vi rinfresco le idee eh dovreste già averle fresche mamma mia ragazzi ma li ho distrutti in un secondo il cavaliere bella faccia non ha paura di niente oh ci sono dei golem più forti come osi maledetto sei ancora in piedi sarà meglio per te tesorino tesoro bello andiamo avanti forza questo dangeone è troppo semplice per il cavaliere di bella bella faccia golem di gelo ma guardate erano super forti venite qua maghetti gli ultimi tre gli ultimi tre e poi c'è il boss finale oh mio dio è proprio lui ipertrofrost sono qui amica io contro di te oh no degli scagnozzi maledetto non è valido così non è valido mettere gli scagnozzi oh cavolaccio beccati questo è troppo forte ragazzi è fortissimo è fortissimo cavolo ah mi sta cavando troppo via 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 banana non sei forte per nulla così eh c'è un bottino lì per terra aiuto mi ha rallentato sto ghiacciando sto ghiacciando che cavolo è qui per terra piglialo 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 si ho preso qualcosa aio aio è potentissimo ah ah fa troppo male fa malissimo che cavolo aio beccati questo no che cavolaccio forse dovevamo essere in più ragazzi da solo è troppo potente questo qui beccati questo aia aia una spada mi serve la spada posso equipaggiare la spada spada equipaggia vai vai cambia si l'ho equipaggiata ragazzi non ce la faccio è troppo potente aiuto aiuto sono troppo forti per me aiuto 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 no sono morto non era abbastanza forte come cavaliere ok ho perso una vita non temere bella faccia si sei ancora finché sarò in piedi non intendo arrendermi maledetto ma quanti sono sono troppi mi stanno congelando si la cura ho preso aiuto mano congelato aiuto 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 tornato di spada no vabbè è troppo forte è troppo forte per me iperfrost è troppo freddo è troppo freddo devo metterlo nel forno ragazzi altrimenti non ce la farò mai a sconfiggerlo ok ho perso un'altra vita ce la posso fare ce la posso fare vediamo cosa posso prendere ancora così ma quanti siete sono tantissimi ma beccatevi questo maledetti è troppo potente mi sta rifrigerando non voglio andare nel frigo non voglio andare nel frigo ti ho detto cosa devo dirti per non andare nel frigo è troppo potente mi serve un team mi serve qualcosa ragazzi venite a darmi una mano in nome di tutti i cavalieri della tavola rotonda ai 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 ooo calmo 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 amico 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 dai che ce l'ho fatta dai che ce l'hai fatta bella faccia con questa super banana sei riuscito a sconfiggere questo mostro terrificante sì è il per rosso sì ce l'abbiamo fatta abbiamo sconfitto il mostro di neve Sì, e vai Il livello 5 Allora, vediamo Vendi, io direi Questo cos'è? Magia, potenza La banana però è più forte Allora, direi di vendere Vendi Vendi, e vendi Vai, sì, vendi tutto Sì, bottino Ci sono anche le missioni Allora, vediamo, sconfiggi il mini boss della magia Sconfiggi il mini boss blaze Ok, e dove sono questi mini boss? Forse nel primo dungeon, eh Oh, basta fare tutto sto baccano Allora, io direi di potenziare qualcosa Potenziamo la banana, vai Potenziamo, quanti soldi? Vai Potenziamo la banana, sì Super potente Adesso sì che è forte, eh Ok, andiamo nei sotterranei Vediamo, livello 1, giungla antica Forse questo Livello richiesto Ok, faccio questa da solo, livello 5 Ok, vai, cominciamo Eccomi qua Andiamo, andiamo Quanti sono? Oh, mi hanno già imprigionato Ma quanti sono brutto? Oh, mamma mia, c'è il brutto Ma beccati questo Ma beccatevi Oh, fatemi passare Fatemi passare Vi disintegro, avete capito? Oh, fammi andare giù Mamma mia C'è il supremo rompiscatole C'è, eh? Ok, soldi Mamma mia, adesso con la banana super potente Sono fortissimo Venite qua, zomboidi Vieni qua Vi spacco tutto Vieni qui Mie titrice Ma ti distruggo Ma guardate Le cercate tutte Per non farmi arrivare al tesoro Oh, gelo Gelo, non mi rompere le scatole Mamma mia In un colpo vi distruggo Gorilla, grazie per la banana di prima Mi è stata utilissima È super forte Ok, tesoro Preso Il brutto c'è Ma vi distruggo Livello 6 Grande, bella faccia Eccomi qua Oh, il mago Ma beccatevi questo Sono io il mago del quartiere Ancora i brutti e i gorilla, eh Ok, distrutti, disintegrati Fiammata Fiammata Levati Levati dalle scatole Ok, tesoro Tesoro Ma che è qua? Strega Ma cos'è? Un party Aiuto Aiuto, aiuto, aiuto Sono anche dietro Sono anche dietro Beccatevi questo maledetto Questo dungeon è pieno di mostri È pieno di mostri Dolcezza Questo si chiama dolcezza Ma che dolcezza Ti disin Aiuto 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 Facero malissimo No, non ci posso credere Mi stavano attaccando Mi stavano attaccando Con dei ghiaccioli alla frutta Non ci credo Ma non potevo mangiarmeli Oh Allora Ippopotamo Come osi Basta Allora Signor Supremo Basta imprigionarmi, eh Mamma mia Tensione Tensione Te la do io la tensione Beccati questo Oh mamma Mi stanno mettendo in difficoltà Comunque sia, eh Beccati questo Beccati quest'altro Il tesoro Il tesoro di bella faccia Ok, sconfitti Ne rimangono solo 18, eh Rimangono solo 18 mostri Solo poi C'è questo dungeon è molto più difficile Dell'ultima volta Vi disintegro Vi disintegro Oh, li ho sconfitti tutti Uomini ghiacciolo Non potete nulla contro bella faccia Ok Allora C'è questo Che ho disintegrato Il minotauro A breve c'è il boss finale Dai, venite qua Venite qua Senza imprigionarmi Ce la fanno tutti, eh Imprisonando Mamma mia Ho 19 di vita Si mette male, eh Si mette molto male Se non prendo delle cure Oh no Questi sono un masso No Non fatemi male Non fatemi male Vi prego Ok Disintegrati Non so se riesco a arrivare al boss ragazzi No No, 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 no Calmi, 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 calmi Oh L'uomo banane Dorato L'uomo dorato banana Sì, ma io ho 9 di vita C'è un modo per avere più vita C'è un modo E non ho fatto neanche tutte le missioni Ma che bello Ho 9 di vita Scimmia Mi puoi dare un quarto d'ora Che riprendo Aiuto Mi puoi dare un quarto d'ora Che riprendo tutta la vita Dai che lo distruggo Dai che se la fai Dai che se la fai bella fazza Anche con 9 di vita Maledetto scimmione Maledetto scimmione Mangiati questo bananone Sì Yes, yes Yeah, 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 yeah Yes Ce l'abbiamo fatta Il tesoro E tutto il mio tesoro Ma guardate che banana gigante Io avrei paura di trovare un bella fazza Con una banana così gigante Sopra la schiena Eccoci qua Sì Soldi, soldi, soldi Sì E vai E vai, e vai, e vai Allora vendiamo Questo Lo posso usare Se no Dite che è potente Però non lo posso usare È bloccato È bloccato Uffa Allora vediamo Potenziamo la banana O lavorazione Vediamo Lavorazione che mi dai Niente Bel Niente Io direi di potenziare sta banana Che è troppo forte Banana Potenzia Eh non abbiamo i soldi Mi dispiace Possiamo fare un dungeon Con qualcuno Oh Possiamo fare un dungeon Con qualcuno Un sotterraneo Un sotterraneo con qualcuno Vediamo Magari questo di prima Con qualcuno Difficoltà facile Eh difficoltà facile Chi vuole entrare con me Qualcuno vuole fare squadra O sono troppo nabbo per voi Forza Nessuno Nessuno mi considera Solo perché sto girando Con una banana gigante Ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Finché ci sarà Bella faccia Con una banana enorme Pronta a darla in testa E super cattivi Il mondo sarà salvo Vi auguro una fantastica giornata E ci vediamo presto Con un nuovo fantastico video Di Roblox Ciao